I censimenti permanenti sono tra le produzioni più rilevanti dell'Istat, frutto di un'integrazione sempre più avanzata tra le rilevazioni campionarie e i dati di fonte amministrativa. Nel 2023 l'Istat è riuscita a mettere a segno ben tre censimenti economici, in aggiunta al censimento permanente della popolazione che è alla sua sesta edizione e attualmente in chiusura. A maggio abbiamo presentato i risultati del censimento permanente delle istituzioni non profit, diffondendo i risultati a soli cinque mesi dalla rilevazione campionaria. A metà novembre, a soli sei mesi dalla conclusione delle operazioni, abbiamo diffuso i risultati del censimento permanente delle imprese, la rilevazione multiscopo che fotografa le dimensioni strutturali e le strategie delle imprese nazionali. A giugno era partita la quarta edizione del censimento permanente delle istituzioni pubbliche, che ha coinvolto circa 13.000 istituzioni con lo scopo di aggiornare le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione delle nostre istituzioni. In conclusione, il quadro informativo fornito dai censimenti permanenti è il frutto di uno sforzo congiunto tra l'Istituto e molti soggetti chiamati a partecipare alle diverse rilevazioni, con l'obiettivo di fornire al Paese informazioni statistiche tempestive, costanti e di qualità.